Sindaco Bianco, i leader locali da tutta Europa ad Amsterdam per il lancio dell'agenda urbana dell'Unione, che cosa vi aspettate da questa agenda? Due terzi della popolazione europea risiede nelle città d'Europa, non c'è mai stata nella agenda politica dell'Europa una seria riflessione sui problemi della qualità della vita nelle città, in questi anni l'Europa ha discusso di politica agricola, ha discusso di trattati internazionali, non ha discusso sufficientemente della qualità della vita nelle nostre città, finalmente questo tema è iscritto nell'agenda politica dell'Europa, si parla finalmente di occupazione, si parla di qualità della vita nelle periferie, si parla di ambienti, di sostenibilità, si parla dei cambiamenti climatici, uno scambio di riflessioni comuni, le città in mano ai cittadini, questo i sindaci d'Europa vogliono affermare davanti alla Commissione, al Parlamento, ma anche davanti ai governi nazionali. Nella partecipazione italiana a questo processo il tema della migrazione sta pesando moltissimo, la sua è una città simbolo su questo fronte, come sta procedendo il vostro lavoro in questa direzione? Soltanto nelle ultime due settimane non meno di 2.500 migranti sono sbarcati nella mia città, un numero impressionante di minori non accompagnati, di bambini che hanno attraversato in condizioni drammatiche il canale di Sicilia che sono stati salvati e a cui abbiamo dato un tetto, un sorriso, un pasto caldo, forse una speranza. Questo tema non può essere affrontato solo dai governi nazionali, non può essere affrontato soltanto dalle comunità locali, occorre che l'Europa si faccia pieno carico di questo problema. Io riferirò nel Comitato delle Regioni nei prossimi giorni sul tema della revisione del Trattato di Dublino, sul tema del come aiutare i migranti in una condizione di sicurezza perché oggi non è ammissibile che i governi nazionali di molti Stati europei continuino a girarsi dall'altra parte. Il futuro dell'Europa dipende anche da come sapremo integrare questi nuovi cittadini europei che hanno i loro diritti ma che devono avere naturalmente anche i loro doveri. Vista da qui, da Amsterdam, che è un laboratorio anche di politiche, anche sul tema dell'inclusione, Amsterdam ha preso una responsabilità nel pattenariato sull'immigrazione. Si ha la sensazione che a volte gli enti locali, i sindaci, le regioni, siano più avanti nell'impegno su questo fronte dei governi nazionali o addirittura di altri livelli amministrativi? Esattamente così. Chi amministra una comunità locale o regionale vive i problemi concreti e sa che il futuro della sua città dipende dal modo con cui sapremo integrare questi cittadini. Nella mia città a Catania, per esempio, ho creato il registro dei catanesi per diritto di nascita. Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché un ragazzino magari nato a Catania, ma da genitori africani, che è arrivato nella mia città, che parla non solo l'italiano, ma anche il dialetto catanese meglio degli altri cittadini, che studia accanto alla scuola e non deve essere cittadino di Catania. Allora, politiche di integrazione fatte di cose concrete impediscono l'emarginazione sociale dietro cui spesso si nasconde in prospettiva la violenza. La buona amministrazione è il migliore antidoto contro la violenza.